Ogni settimana pubblichiamo nuovi audiolibri. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e condividi il nostro canale con i tuoi amici. Questo audiolibro ha materiali supplementari che puoi trovare sul sito ab-publishing.net. Buon ascolto! Ringraziamenti Uno dei più grandi insegnamenti che ho ricevuto dalla vita è se vuoi dare un contributo nuovo, devi prepararti in un modo completamente nuovo. Benché ogni progetto letterario significativo intrapreso abbia rinforzato questo principio, è molto facile da dimenticare. Iniziai a lavorare a questo libro cinque anni fa, pensando di poter attingere a una vita di studio, insegnamento e consulenza nel campo della leadership e di potermela sbrigare in pochi mesi. Dopo più di un anno di stesura e di insegnamento del materiale, io e la mia squadra terminammo una bozza iniziale, emozionati per esservi finalmente giunti. Fu in quel momento che sperimentammo ciò che accade spesso agli alpinisti che scalano una montagna. Non avevano affatto raggiunto la vetta, ma solo la prima delle cime della catena montuosa. Da questa posizione privilegiata, fatta di riflessioni conquistate col sudore, potevamo contemplare cose mai viste prima, osservabili solo da quell'altezza. Allora volgemmo lo sguardo alla montagna vera e iniziamo una nuova scalata. Questa esperienza fu ripetuta letteralmente un'altra dozzina di volte. Ogni volta pensammo di aver raggiunto il picco, ogni volta fummo convinti che finalmente il libro c'era e ogni volta subimmo l'umiliazione di renderci conto di essere saliti solo a un ennesimo livello critico di comprensione, mentre avevamo davanti ancora un'altra montagna da scalare. Nella storia dell'alpinismo, le più grandi conquiste e fonti di ispirazione non sono storie di successi individuali, ma del potere di una squadra unita, dotata, preparata, i cui membri si impegnano fedelmente tra loro e nei confronti della visione condivisa, verso il fine. Molte delle squadre di alpinisti che tentano la scalata al Monte Everest non raggiungono mai la vetta. Solo pochi, pochissimi vi riescono. Per una ragione o per l'altra, la maggior parte delle persone o delle squadre portate ai loro limiti dalle condizioni estreme si ritirano lungo il cammino e scelgono o sono costrette a tornare indietro. La storia dei cinque anni dedicati a questo libro non è diversa. Se non fosse stato per la determinazione, l'instancabile impegno, la pazienza, l'incoraggiamento e i contributi sinergici della notevole squadra che mi ha assistito nel progetto, non solo il libro non sarebbe diventato ciò che è, ma non avrebbe mai visto la luce. È con profonda gratitudine che esprimo tutto il mio apprezzamento per il loro contributo a letteralmente decine di migliaia di persone in contesti diversi ovunque nel mondo che hanno dimostrato tanto affetto da fornire dei feedback sinceri e da condividere il loro tempo, le loro reali preoccupazioni, dolori e speranze che mi hanno tutte insegnato come scalare la catena montuosa attraverso una costante reinvenzione, preziose considerazioni e infinite prove per la pazienza della squadra. A Boyd Craig, per cinque anni di impegno valido e straordinario, di passione e di dedizione, sia nello sviluppo sia nella cura della parte digitale del libro, per aver gestito tutte le dimensioni di questo imponente progetto di squadra, per la sua leadership e per la collaborazione sinergica con l'editore, la gente e la nostra azienda, e soprattutto per la spiritualità, il giudizio, la flessibilità, la pazienza e la conoscenza dei contenuti. La mia più sentita gratitudine va anche alla moglie di Boyd, Michelle Daines Craig, per il suo grande spirito positivo e il suo inesauribile supporto nel sostenere la maratona. Allo staff del mio ufficio e a tutta la squadra di supporto, Patty Pellett, Julie Judd Gilman, Darla Selin, Julie McAllister, Nancy Eldridge, Cara Foster Holmes, Lucy Ainsworth, Diane Thompson e Christy Brezinski, per l'eccezionale dedizione e per la lealtà, per essersi fatte carico di tutto e aver fatto accadere le cose, e per la loro professionalità di livello mondiale. Ai miei associati in Franklin Covey e al loro impegno, specialmente a Bob Whitman e a mio figlio Sean, per la loro revisione accurata e riflessiva del manoscritto finale e per il loro feedback concreto ed inestimabile valore. A Edward H. Pauli, per la forza trainante della sua collaborazione nella rassegna letteraria, e a Richard Garcia e a Mike Robbins per la loro instancabile e costante assistenza nella ricerca. A Tessa Meyer Santiago, per l'assistenza editoriale nelle prime bozze del libro. A Sherry Hall Everett, per gli anni di lavoro dedicati alla creazione e ricreazione della grafica. A Brad Anderson, Bruce Nabor, Miach Merrill e molti altri colleghi di talento che nel corso degli anni sono stati l'energia creativa dietro il materiale video che ha ricevuto riconoscimenti pubblici. A Greg Link, per il genio della sua visione di marketing e l'incessante impegno verso la nostra missione. A mio figlio Steven, per avermi insegnato molto sulla fiducia, sia con l'esempio sia addentrandosi nei suoi fondamenti teorici e pratici. Alla mia deliziosa agente letteraria Jen Miller e alla sua socia Shannon Misermalvin, per gli anni di sostegno e di patrocinio. A Bob Asahina, il mio redattore di fiducia da anni, per avermi aiutato ancora una volta a uscire dalla mia testa, per iniziare sempre dal punto in cui si trova il lettore. Al nostro pregiato editore Simon & Shuster, in particolar modo a Carolyn Rady, Martha Levin, Suzanne Donahue e Dominique Canfuso, per essere rimasti in sospeso nell'esteso processo di travaglio e parto, compresi non pochi falsi allarmi sulla strada verso la vetta. Alla mia cara moglie Sandra, ai miei figli e ai miei nipoti, che anche se portati all'esasperazione da questo progetto letterario infinito, scelsero di sorridere e incoraggiarmi anziché torcermi il collo. Anche all'amato nonno Steven L. Richards, ai miei nobili genitori, Steven G. e Louise Richards Covey, alle mie sorelle Irene, Ellen Jean, Marilyn e a mio fratello John, che fin dall'adolescenza hanno profondamente influenzato la persona che sono diventato. Addio padre di tutti noi, per il suo disegno di felicità destinato a tutti i suoi figli. Caro ascoltatore, iscriviti al nostro canale per non perdere i nuovi video. Agli umili, coraggiosi, eccellenti tra noi, che dimostrano come la leadership sia una scelta e non una posizione. Capitolo 1. Il sintomo Ascoltate le voci. Mi sono arenato, sono schiavo delle abitudini. Non ho una vita, sono esaurito. Nessuno mi stima, né apprezza davvero. Il mio capo non ha la minima idea di ciò che sono in grado di fare. Sento di non essere particolarmente necessario, né al lavoro, né per i figli adolescenti o adulti, né per i vicini e la comunità, né per mia moglie, tranne che al momento di pagare le bollette. Sono frustrato e scoraggiato. Non sto facendo abbastanza per rientrare nelle spese. Mi sembra di non progredire mai. Forse non ho ciò che mi occorre. Non sto facendo la differenza. Mi sento vuoto. La mia vita è priva di significato. Manca qualcosa. Sono arrabbiato, intimorito. Non posso permettermi di perdere il posto di lavoro. Sono solo. Sono sempre sotto pressione. Tutto è urgente. Ho il fiato sul collo. Il mio capo mi soffoca. Non ne posso più della politica fatta di ruffianeria e di pugnalate alla schiena. Mi annoio. Inganno il tempo. La maggior parte delle soddisfazioni non deriva dal lavoro. Mi spremono fino all'osso per fare numeri sempre più elevati. La pressione a produrre è incredibile. Non ho né il tempo né le risorse per fare tutto. Con un marito che non mi capisce, dei bambini che non ascoltano e non obbediscono, stare a casa non è certo meglio che stare al lavoro. Non posso cambiare le cose. Queste sono le voci delle persone al lavoro e a casa. Letteralmente le voci di milioni di genitori, operai, operatori assistenziali, manager, professionisti e funzionari di tutto il mondo che stanno lottando per cambiarlo. Il dolore è personale e profondo. Anche a voi sarà capitato di sentire o fare molte di queste affermazioni. Come disse Carl Rogers, ciò che è più personale è più generale. Naturalmente alcune persone sono impegnate, coinvolte e stimolate dal lavoro, ma troppo poche. Spesso chiedo a grandi platee quanti di voi ritengono che la maggior parte della forza lavoro della vostra azienda possieda molto più talento, intelligenza, capacità e creatività di quanto richieda o perfino consenta la loro attività. La stragrande maggioranza dei presenti alza la mano e ciò avviene con gruppi in tutto il mondo. Circa la stessa percentuale di persone ammette di essere sottoposta a pressanti richieste di produrre di più con meno. Pensateci, le persone fronteggiano una nuova e sempre maggiore aspettativa di produrre di più con meno in un mondo incredibilmente complesso. Ciò nonostante, non hanno il permesso di usare una parte significativa del loro talento e della loro intelligenza. L'incapacità di focalizzare ed eseguire le massime priorità all'interno delle aziende è il sintomo di questo dolore e non potrebbe manifestarsi in maniera più chiara ed evidente. Harris Interactive, gli ideatori del Harris Poll, usando ciò che chiamiamo questionario XQ, quoziente esecutivo, hanno recentemente intervistato 23.000 residenti negli Stati Uniti, impiegati a tempo pieno, che rivestono aree funzionali chiave all'interno di industrie chiave. Per un resoconto più dettagliato vedi appendice 6, risultati XQ. Le funzioni chiave comprendono diversi livelli di impiego che vanno dall'assistente, segretaria, amministrativa al libero professionista. Le industrie chiave comprendono vari settori che spaziano dai servizi alberghieri alle telecomunicazioni. Esaminate alcune delle loro scoperte più sorprendenti. Solo il 37% afferma di capire chiaramente ciò che la sua azienda sta cercando di realizzare e il perché. Solo 1 su 5 è entusiasta degli obiettivi del suo team e della sua azienda. Solo un lavoratore su 5 sostiene di avere una chiara linea di visione tra i suoi compiti e gli obiettivi del team e dell'azienda. Solo la metà di essi alla fine della settimana è soddisfatta del lavoro svolto. Solo il 15% pensa che la sua azienda consenta pienamente il conseguimento degli obiettivi chiave. Solo il 15% ritiene di lavorare in un clima di totale fiducia. Solo il 17% reputa che la sua organizzazione incoraggi la comunicazione, nel rispetto delle diverse opinioni, come fonte di idee nuove e migliori. Solo per il 10% la sua azienda ritiene che i risultati siano merito delle persone. Solo il 20% ha piena fiducia nell'organizzazione per cui lavora. Solo il 13% intrattiene relazioni di lavoro con altri gruppi o dipartimenti basati sulla totale fiducia e sulla totale cooperazione. Se poniamo il caso gli stessi risultati fossero applicati a una squadra di calcio, solo 4 degli 11 giocatori in campo conoscerebbero i loro obiettivi. Solo a 2 su 11 importerebbe. Solo 2 giocatori su 11 saprebbero in quale posizione giocare e cosa fare esattamente. Inoltre tutti i giocatori, tranne 2, sarebbero in qualche modo in competizione con i compagni di squadra, piuttosto che contro gli avversari. Dati come questi chiariscono le idee. Corrispondono esattamente alla mia esperienza con le persone in ogni tipo di organizzazione ovunque nel mondo. Nonostante tutte le conquiste tecnologiche, l'innovazione e il mercato mondiale dei prodotti, la maggior parte delle persone non stanno crescendo all'interno delle organizzazioni per cui lavorano. Non sono né appagate né stimolate, sono frustrate. Non hanno chiaro verso cosa sia guidata l'azienda o quali siano le maggiori priorità. Sono bloccate e distratte. Soprattutto sentono di non poter cambiare molto. Riuscite a immaginare quale sia il costo personale e organizzativo di non riuscire a impegnare completamente la passione, il talento e l'intelligenza della forza lavoro è molto più alto di qualsiasi tassa, interesse e costo di manodopera messi insieme. Perché un'ottava regola? L'unico presupposto per il trionfo del male è l'inerzia dei buoni. Edmund Burke. Il mondo è profondamente cambiato dalla pubblicazione delle sette regole per avere successo nel 1989. Le sfide e la complessità che affrontiamo nella vita privata e nelle relazioni, in famiglia, nella vita professionale e nelle organizzazioni, sono di un diverso ordine di grandezza. Di fatto molti fissano il 1989, l'anno in cui abbiamo assistito alla caduta del muro di Berlino, come l'inizio dell'età informatica, la nascita di una nuova realtà, un cambiamento estremamente significativo, davvero una nuova era. Molti mi hanno chiesto se le sette regole siano ancora valide nella realtà odierna. La mia risposta è sempre la stessa. Più grande è il cambiamento e più sono difficili le nostre sfide, più diventano valide le regole. Vedete, le sette regole dicono come diventare altamente efficaci. Rappresentano una struttura completa, basata su principi universali e senza tempo, di carattere ed efficacia umana. Essere efficaci come individui e come organizzazioni al giorno d'oggi non è più facoltativo. È il biglietto da pagare per entrare in gioco. Ma la sopravvivenza, la prosperità, l'innovazione, l'eccellenza e il primato in questa nuova realtà ci richiederanno di partire dall'efficacia per andare oltre. La richiesta e la necessità di una nuova era sono di eccellenza, di realizzazione, di attuazione appassionata, di contributo significativo. Sono tuttavia su un piano o su una dimensione diversa. Sono di genere diverso, così come l'importanza è diversa nel genere e non nel grado dal successo. Raggiungere le vette più alte del genio e della motivazione umana, ciò che potremmo chiamare la voce, richiede una nuova struttura mentale, nuove abilità e nuovi mezzi, una nuova regola. Le sette regole sono rappresentate nella figura 1.1 che potete trovare nell'appendice. L'ottava regola, dunque, non è l'aggiunta di una nuova regola alla settima, una che era stata dimenticata. È piuttosto vedere e rifinire il potere di una terza dimensione. delle sette regole che incontri la sfida centrale della nuova età del Knowledge Worker. Questa ottava regola è Trova la tua voce e ispira gli altri a trovare la loro. L'ottava regola rappresenta il percorso verso la parte più promettente della realtà odierna. Si pone in netto contrasto con il dolore e la frustrazione sopra descritte. Infatti, si tratta di una realtà senza tempo. È la voce dello spirito umano, colma di speranza e intelligenza, resistente agli urti per natura, dotata di un potenziale sconfinato a servizio del bene comune. Questa voce racchiude, inoltre, l'anima delle organizzazioni che sopravviveranno, prospereranno e avranno un impatto profondo sul futuro del mondo. La voce è la parte più intima di ciascuno di noi, quella specificità che ci manifesta nel momento in cui affrontiamo le sfide più grandi e che ci rende alla loro altezza. Come illustrato nella figura 1.2 dell'appendice, la voce è l'area di intersezione tra talento, la forza e i doni innati, passione, ciò che naturalmente vi dà energia, stimolo, motivazione e ispirazione, bisogni, incluso ciò di cui il mondo necessita per ripagarvi, e coscienza, quella calma voce interiore che vi dà la certezza di ciò che è giusto e vi incita a farlo concretamente. Quando vi impegnate in compiti che fanno sgorgare il vostro talento e alimentano la vostra passione, che emerge da un grande bisogno nel mondo che la coscienza vi incita a soddisfare, lì è la vostra voce, la vostra vocazione, il codice genetico della vostra anima. In ognuno di noi esiste un profondo, innato, quasi inesprimibile desiderio di trovare questa voce nella vita. L'esplosione inarrestabile e rivoluzionaria di Internet è una delle manifestazioni moderne più potenti di questa verità. Internet è probabilmente il simbolo perfetto del nuovo mondo, dell'economia, dell'information knowledge worker e dei cambiamenti radicali che sono avvenuti. Ecco come viene posta la questione da Locke, Levin Searles e Weinberg nell'opera Clue Train Manifesto del 1999. Stiamo ritrovando le nostre voci, stiamo imparando a comunicare. Ovunque è nato una conversazione, un dialogo che non esisteva affatto cinque anni fa e che, a partire dalla rivoluzione industriale, è andato via via smorzandosi. Ora questa conversazione, che coinvolge tutto il pianeta attraverso Internet e il World Wide Web, è così ampia, così multiforme, che sarebbe inutile cercare di capirne i contenuti. Sono miliardi di anni di speranze, paure e sogni inespressi che vengono codificati in sinuose doppie ellissi, il déjà vu collettivo di un'umanità strana e confusa. Nei tubi e nei cavi del XXI secolo si è liberato qualcosa di antico, elementare, sacro, qualcosa di molto, molto singolare. In questa conversazione ci sono milioni e milioni di fili e all'inizio di ognuno di essi c'è un essere umano. Questa brama che ci spinge verso il web rivela un desiderio talmente profondo da poter essere interpretato solo in chiave spirituale. Un desiderio indica che manca qualcosa alla nostra vita. Manca il suono della voce umana. Il richiamo spirituale del web è la promessa che questa voce ritornerà. Anziché approfondire la descrizione della voce, «La illustrerò attraverso la storia vera di un uomo». Quando incontrai Muhammad Yunus, fondatore della Greymean Bank, una singolare azienda fondata con l'unico scopo di estendere il microcredito ai più poveri tra i poveri in Bangladesh, gli chiesi quando e come avesse raggiunto la sua visione. Disse di non aver avuto alcuna visione da cui partire. Molto semplicemente vide qualcuno che aveva un bisogno, cercò di soddisfarlo e la visione si sviluppò da sola. La visione di Muhammad Yunus di un mondo senza povertà prese forma da un fatto accaduto per le strade del Bangladesh. Durante l'intervista per la mia rubrica sulla leadership all'interno di una rivista di settore, Yunus condivise con me la sua storia. Tutto iniziò 25 anni fa. All'epoca insegnavo economia in un'università del Bangladesh. Il paese stava attraversando una carestia. Era imbarazzante. Mi trovavo lì, in classe, con tutto l'entusiasmo di chi è fresco di PhD e arriva dagli Stati Uniti per insegnare le eleganti teorie dell'economia. Ma quando uscivo, intorno a me non vedevo altro che scheletri, persone che attendevano la morte. Capivo che tutto ciò che avevo imparato, tutto ciò che stavo insegnando, erano fandonie, senza alcun significato nella vita delle persone. Quindi iniziai a cercare di capire come viveva la gente nel villaggio accanto al campus universitario. Volevo capire se ci fosse qualcosa che potevo fare in quanto essere umano per ritardare o fermare la morte, anche di una sola persona. Abbandonai lo sguardo panoramico tipico degli uccelli, che vedono tutto dall'alto, dal cielo. Adottai lo sguardo dei vermi, da una posizione più bassa, cercando di vedere da vicino tutto ciò che mi circondava, annusarlo, toccarlo, vedere se fosse possibile farci qualcosa. Un avvenimento particolare mi portò in una nuova direzione. Incontrai una donna che faceva degli sgabelli di bambù. Dopo una lunga discussione scoprì che guadagnava solo due centesimi al giorno. Non potevo credere che qualcuno potesse lavorare così duramente e fare degli sgabelli così belli per un profitto così misero. Mi spiegò che, poiché non aveva il denaro per comprare il bambù, doveva farselo prestare dal commerciante, il quale le imponeva la condizione di vendere il prodotto solo a lui e al prezzo che aveva stabilito. Questo spiegava i due centesimi. Quanto costava il bambù? Disse, oh, circa 20 centesimi. Uno molto buono, 25. Pensai, la gente soffre per 20 centesimi e non c'è niente che si possa fare? Riflettei se fosse il caso di darle 20 centesimi, ma poi mi venne un'altra idea. Fare una lista di persone che avevano bisogno di denaro allo stesso modo. Presi uno dei miei studenti e girammo il villaggio per vari giorni e ne ricavammo una lista di 42 persone. Quando feci la somma del denaro di cui avevano bisogno, ebbi il più grande shock della mia vita, 27 dollari. Mi vergognavo di me stesso perché facevo parte di una società che non poteva nemmeno dare 27 dollari a 42 esseri umani esperti nel proprio mestiere e grandi lavoratori. Per evitare questa vergogna, presi i soldi di tasca mia e li diedi al mio studente dicendo, prendi questo denaro e dallo alle 42 persone che abbiamo incontrato, dicendo loro che si tratta di un prestito e che potranno restituirmelo quando saranno in grado di farlo. Nel frattempo possono vendere i loro prodotti ovunque riescano a ottenere un buon prezzo. Dopo aver ricevuto il denaro, erano molto entusiasti e vedendo quell'entusiasmo pensai, e adesso cosa faccio? Mi venne in mente l'agenzia della banca del campus universitario. Andai dal manager e gli proposi di prestare il denaro ai poveri che avevo incontrato. Perse le staffe. Disse, lei è pazzo, è impossibile. Come potremmo prestare denaro ai poveri? Non sono creditori affidabili. Per ora hai la mia causa. Almeno ci provi e poi veda. Si tratta di una piccola somma di denaro. Rispose, no, va contro le nostre regole. Queste persone non possono offrire garanzie e una somma così piccola non vale nemmeno la pena di essere prestata. Mi consigliò di incontrare le alte cariche della gerarchia bancaria del Bangladesh. Grazie per aver ascoltato l'inizio dell'audiolibro. Puoi trovare la versione completa cliccando il link sotto il video.